Due giovani in prova e almeno un paio di colpi ancora da assestare per vedere un teramo completo nella prima giornata di campionato. I due ragazzi, su cui da ieri Asta può contare, sono Gabriele Tittarelli e Sascha Martinez. Il primo, attaccante Jesino, l'anno scorso ha fatto le fortune del Fabriano Cerreto in eccellenza con 17 reti e 30 gare di campionato. Peraltro fu un suo gol al Valle Anzuca di Francavilla a impattare l'iniziale vantaggio giallorosso di Milizia. Martinez invece è calcisticamente cresciuto nella scuola di formazione francese di Claire Fontaine. Ad Asta è alla dirigenza il compito di visionarli e nel caso offrire loro la possibilità di giocare una stagione nella terza serie nazionale. Tittarelli sarebbe il vicefoggia, mentre il Diavole è ancora alla ricerca di un centrocampista di struttura da affiancare ai già presenti Ilari, Amadio, De Grazia, Paolucci e Varas. Non c'è dubbio che comunque in mezzo al campo è un qualcosa dove ancora ci stiamo un po' pensando come alternativa di avere un giocatore strutturato perché certe gare si mettono in una certa maniera dove trovi questi lanci lunghi degli avversari sulle palle native e questa categoria si decide molto. quindi c'è solo Ilari un pochino che di testa, un po' ci va come strutture gli altri, no. Ma è una scelta che ci stava per come è nata la squadra, quindi sì, è giusta come analisi la tua e quindi sappiamo che comunque ogni squadra ha i suoi pregi difetti, questo non c'è dubbio. Noi cerchiamo di aumentare possibilmente i nostri pregi in base ai giocatori che ho a disposizione. Conosco entrambi gli allenatori e conosco entrambi le squadre, già quelli che hanno come Rose i giocatori. Sono due buone squadre, sia in un verso o nell'altro. Il mestre oltre l'entusiasmo che avrà si porta dietro degli acquisti come Neto Perera, come Sodinia, e quindi giocatori di categoria. Ma in verità, guarda, non mi preoccupava la squadra forte, non forte, tutto. E la situazione che si è creata delle due partite fuori casa e l'altra riposi, perché è questo. Sappiamo questo girone che girone è, ogni partita sarà difficile e quindi non stavo a vedere. Ecco, sinceramente l'unica cosa che avevo un po' è giocare la prima in casa. Ecco, questa è una cosa dove mi è fatto piacere, però non è possibile.